La concorrente del grande fratello 13 Angela Viviani ha cambiato l'unc. Dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà, conclusa la relazione con Fabio Pellegrini, la 30enne di Sesto San Giovanni ha trasformato i suoi lunghi capelli lisci con un'acconciatura e con trecce. Come visibile nel suo profilo Instagram è Angela Viviani Underline Official dove è seguita da più di 52.000 full lover, l'ex concorrente del GF13 si mostra in una serie di scatti hot. La relazione tra Angela Viviani e Fabio Pellegrini è nata proprio all'interno della casa del grande fratello ed ha dato seguito ad un'amicizia speciale, come raccontato qualche mese fa durante il programma radiofonico non succederà più, condotto da Giada De Miceli. È successo che abbiamo attraversato un nostro periodo bello, abbiamo attraversato anche le nostre crisi, ci siamo guardati in faccia ad un certo punto e ci siamo detti che ci vogliamo un bene dell'anima. Probabilmente io per Fabio, come ho sempre detto, mi butterei ancora nel fuoco, ma non c'è il sentimento d'amore che la gente sperava. Oggi Angela Viviani, come visibile dai sui profili social, partecipa ad alcune serate di inaugurazioni e lavora Radio Radio, FM 104, 5, dove interviene tutti il sabato alle ore 19.30 per parlare con tutti i vildini. Durante il reality show di Canale 5, infatti, Angela Viviani e Fabio Pellegrini erano conosciuti come la coppia wild della tredicesima edizione del grande fratello. Ora però sembra che tra i due sia rimasta solo tanta amicizia, come confermato dalla stessa Viviani. Magari non c'è neanche mai stato l'amore. Io e Fabio siamo sempre stati così, non sapevamo a momenti neanche come ci chiamavamo a un certo punto. Non lo so, abbiamo attraversato momenti difficili e da questi momenti difficili abbiamo capito che la nostra strada era questa. C'è un grandissimo affetto, ma non è amore chi se ne frega.